Si inasprisce la vertenza trafome che l'azienda non si presenta all'incontro, sciopero e presidio dei lavoratori che rivendicano il rispetto delle promesse dei mesi scorsi. La Guardia di Finanza sequestra a Terni 72.000 articoli in 5 negozi, tutti senza i requisiti di sicurezza, migliaia e gadget preparati per la notte di Halloween. Innovazione per uscire dalla crisi, due diverse occasioni a Terni e ad Assisi per riflettere sulle start-up e le nuove imprese che ci hanno creduto anche negli anni più bui. La strategia della regione per sostenere chi è in difficoltà e il nuovo piano sociale presentato oggi a Villa Umbra mette i comuni al centro delle politiche del welfare. Umbria al terzo posto in Italia per presenza di immigrati, l'11% della popolazione buona alla loro integrazione, alta all'acquisizione della cittadinanza italiana, ma la mancanza di lavoro li sta spingendo a cercare altre mete. Buonasera dal TGR. Dunque, in apertura, in primo piano l'agitazione dei lavoratori della Trafomec di Tavernelle, dopo un'assemblea tesissima, è stato proclamato uno sciopero ad oltranza. Tutti particolari nel servizio di Federica Becchetti. I lavoratori della Trafomec non ci stanno e fanno sentire la loro voce. Troppe le promesse non mantenute in questi mesi dicono per questo sono arrivati ad una nuova protesta, sciopero e presidio davanti ai cancelli dell'azienda. Stamattina si sarebbe dovuto tenere l'incontro con i vertici aziendali che però hanno scelto di non presentarsi, alimentando le incertezze. I lavoratori, un centinaio, quelli occupati al momento, chiedono risposte certe dopo un lungo periodo di promesse non mantenute. I 60 che avevano accettato il licenziamento per favorire la ripresa sono ancora lì in attesa delle loro spettanze, ma a protestare ora sono i dipendenti riassorbiti. Noi chiediamo innanzitutto un po' di serietà, è quello che manca fondamentalmente. Si sono comportati in modo scorretto ai nostri confronti, non hanno mai avuto rispetto, ci hanno spesso preso in giro. All'azienda chiediamo di mantenere tutti gli impegni presi con le istituzioni e soprattutto con i lavoratori, in più di dimostrarsi persone, di trattarci soprattutto da persone, da esseri umani e non da oggetto. A giugno dello scorso anno hanno accettato di abbassare lo stipendio in media del 30% per ridurre i costi del lavoro. L'azienda continua però a sostenere di avere le commesse ma non la liquidità per comprare le materie prime. La regione attraverso GEPA fin si è impegnata a farsi garante con le banche, ma la situazione non si sblocca e ora arriva anche la cassa integrazione a rotazione. Continuiamo ad avere problemi con i fornitori, con i clienti e quindi tutto ciò ci indispetisce per di più ora ci fanno nuovamente andare in cassa integrazione e a noi non ci sta bene anche perché ci sono degli ordini, c'è il lavoro e non capiamo perché dobbiamo andare in cassa integrazione. Una direzione latitante, una direzione che tiene all'oscuro dei propri progetti, del proprio progetto industriale, alle organizzazioni sindacali, ai lavoratori, chiedendo sempre e solo sacrifici. Noi vogliamo sapere se questa azienda ha un futuro, vogliamo sapere se questa azienda ha delle possibilità di essere stabile, di confermare l'occupazione e di garantire a questi lavoratori il proseguimento dell'attività produttiva. Ora l'inchiesta che riguarda la BPS Banco Desio. Ieri c'è stata una perquisizione della Guardia di Finanza che ha riacceso il sospetto su una presunta offerta milionaria da parte di una società di Hong Kong per la banca di Spoleto. Gianni Sacchi. Patacca così il 21 ottobre scorso i tre ex commissari della BPS indagati dalla procura di Spoleto insieme al governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, avevano definito la vicenda della Nith Holding e la società di Hong Kong a cui era stata rifiutata un'offerta milionaria per la banca spolettina. Quel termine, poco elegante e per nulla tecnico, usato dagli ex commissari, sembra trovare sostanza negli ultimi sviluppi di un'inchiesta della procura di Roma che indaga per manipolazione del mercato e calugna. Ieri gli uomini del nucleo speciale della Polizia Tributaria e della Guardia di Finanza hanno perquisito le abitazioni di due rappresentanti italiani della Nith Holding a Milano. La prima ipotesi di reato è relativa all'offerta di 10 miliardi di euro per la ristrutturazione del capitale del Monte dei Paschi di Siena avanzata nel novembre del 2014. La calugna si riferisce invece alle vicende della Popolare di Spoleto. Dopo che la sua offerta era stata bocciata risulta che la Nith Holding scrive in un comunicato la Guardia di Finanza avesse fortemente caldeggiato la presentazione di svariate denunce da parte degli azionisti della banca nei confronti dei commissari e della Banca d'Italia e questo pur essendo pienamente consapevoli dell'infondatezza della debito. Da una di quelle denunce, presentata da Aspo Credit, che rappresenta 400 dei 21 mila soci della SCS, era scatolita l'iscrizione nel registro degli indagati della procura spoletina di Visco e di altre sette persone per corruzione e truffa. Una settimana fa il procuratore capo Cannevale aveva però precisato che si trattava soltanto della qualificazione giuridica di un'ipotesi investigativa proposta da privati, tutta da verificare e da valutare. Nella valutazione dei magistrati spoletini si inserisce adesso anche l'inchiesta romana che si aggiunge comunque ai fascicoli riguardanti la NIT già aperti nella procura Umbra. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Terni. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 72 mila articoli in cinque negozi della provincia. Casalinghi, bigiotterie, accessori per la telefonia e numerosi gadget in vendita per la festività di Halloween. Oggetti risultati sprovvisti dei certificati di sicurezza in violazione dunque del codice del consumo. I controlli hanno riguardato diverse località della provincia tra cui Narni e Orvieto. Con le attività di controllo condotte dai reparti di Terni e Orvieto le Fiamme Gialle hanno anche provveduto a segnalare i responsabili degli illeciti alla Camera di Commercio. Sono quasi 5 mila le imprese italiane giovani e innovative che hanno sfidato la crisi e ora lanciano la ripresa. 64 di queste start-up, l'1,3% del totale nazionale, sono Umbre e molti di esse si sono date convegno a Terni per fare i conti con le opportunità di sviluppo ulteriormente offerte dalla programmazione comunitaria e dalle misure di promozione imprenditoriale della regione Umbria. Il servizio è di Paolo Raffaelli. Si fa presto a dire crisi. Nei sette anni terribili del declino economico, che forse stanno andando in archivio, forse, non sono mancati quelli che soprattutto giovani hanno saputo navigare contro vento e andare lontano verso terre incognite. In gergo si chiamano start-up innovative e sono le nuove imprese, piccole e piccolissime spesso, che hanno scelto la strada dell'innovazione radicale. Il Ministero dello Sviluppo Economico le ha raccolte in un registro speciale che oggi ne conta 4.756. 64 di queste sono in Umbria e alcune di esse si sono date convegno a Terni, alla Camera di Commercio, per la terza tappa del secondo Roadshow, la rassegna che punta a far conoscere e promuovere sia le imprese innovative che le opportunità di accedere a misure nazionali e comunitarie per avviarle. Contribuiamo a fare da collegamento con le strutture regionali, con il Ministero dell'Economia per far conoscere tramite banti e tramite servizi a sportello quelle che sono le risorse disponibili per intraprendere tali attività. Abbiamo iniziato da un anno, stiamo sviluppando dei prodotti, abbiamo depositato dei brevetti e quindi stiamo puntando molto sulla parte tecnologica, sul discorso del brand, su prodotti avanzati sia da un punto di vista della qualità sia da un punto di vista della tecnologia. Una caratteristica delle start-up innovative è l'elevata capacità di difendere, registrando i brevetti, il proprio genio innovativo, la propria creatività imprenditoriale e in questo caso si può dire che l'Italia può essere un paese di giovani. Un quarto delle imprese innovative delle start-up ha tra i suoi promotori un giovane e tutte puntano su profili professionali altamente qualificati e specializzati. È molto interessante vedere come si stia in Italia manifestando una sensibilità maggiore nei confronti di chi ha queste iniziative abbastanza intraprendenti. Continuiamo a parlare di aziende che fanno dell'innovazione la loro forza. Sono quasi 200 gli imprenditori che si sono ritrovati ad Assisi per un convegno, anche per riflettere su cosa significa innovare in una regione come l'Umbria saldamente ancorata alle sue tradizioni. Ce ne parla Rosario Carello. L'altra faccia dell'economia. Dietro a questi tavoli con giustificati sorrisi lavorano quasi 180 imprenditori. Li ha riuniti ad Assisi Confindustria Umbria e li ha messi accanto ai centri di ricerca italiani tra cui l'Università di Perugia. Sono un pezzo importantissimo dell'economia regionale. Rappresentano le nostre imprese di cui poco meno del 50% innova. Un dato che è in linea con la media nazionale, con quella francese e appena più basso di quella tedesca. Ma cosa vuol dire innovazione? Vuol dire realizzare un prodotto migliore, più competitivo, più originale? Vuol dire farlo in modo nuovo, forse come nessun altro lo sa fare e grazie al lavoro di tanti ricercatori. La particolarità però dell'Umbria è che innovazione qui può anche voler dire il caro vecchio uncinetto. Devono cercare tecniche antiche proprio per dare ancora più valore al manufatto. Lo stesso nell'agricoltura, per esempio nel vino, si tende a produrre con tecniche di coltivazione e di produzione più vicine al passato che non al futuro. Queste sono forme di innovazione che non possono essere annoverate tra ricerca e sviluppo convenzionale, ma questo avviene anche nel manifatturiero classico dove ci sono forti innovazioni tecnologiche ma anche forti innovazioni di prodotto. Insomma, in Umbria l'antico e il nuovissimo possono camminare insieme. Il mondo dell'associazionismo e del welfare si è riunito stamani a Villa Umbra per discutere il nuovo piano sociale regionale illustrato dall'assessore alla sanità dell'Umbria Luca Barberini. Punti chiave ai percorsi di inclusione sociale per il superamento della condizione di povertà, il sostegno ai soggetti fragili e vulnerabili in particolar modo alle famiglie con forte disagio economico e sociale, il sostegno alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie. Coerentemente con gli obiettivi europei di inclusione sociale, il piano mette al centro i comuni organizzati con piani di zona capaci di coordinare le politiche di sostegno su base intercomunale. L'associazione Stampa Umbra esprime forte preoccupazione per il provvedimento con cui si vieta ai giornalisti l'accesso al primo piano del Tribunale di Perugia di via 14 settembre. L'ASU ritiene eccessiva la decisione di interdire l'ingresso ai corridoi e alle aule dove da sempre si legge in una nota chi fa cronaca giudiziaria può attingere ad informazioni di interesse pubblico. Tale decisione dunque pregiudica fortemente il diritto dovere di informazione, per questo l'associazione auspica che il provvedimento possa essere riconsiderato. Nonostante il calo della presenza degli immigrati dovuta anche alla crisi economica, l'Umbria è sul podio per la presenza di stranieri e molti di loro sono ormai perfettamente integrati. Giulia Monaldi. Siamo al terzo posto in Italia per presenza di immigrati subito dopo Emilia Romagna e Lombardia e se la presenza dei cittadini stranieri è in diminuzione a causa della crisi economica sono in tanti quelli ormai radicati nella regione. Le acquisizioni della cittadinanza italiana sono superiori alla media del paese, così come i numeri relativi alla frequenza scolastica. Presentato in regione il dossier statistico dell'immigrazione per il 2015, uno studio nazionale realizzato dalla cooperativa IDOS e dall'ufficio antidiscriminazioni razziali della presidenza del Consiglio dei Ministri, alla cui stesura la regione Umbria ha contribuito direttamente. La sfida dell'accoglienza, detto l'assessore al welfare Luca Barberini, è uno stimolo, occasione di sviluppo e crescita. Gli immigrati sono l'11% della popolazione in Umbria. Le principali comunità si confermano romeni, albanesi, marocchini, ma molti migranti non comunitari hanno deciso di andare via. La popolazione dei immigrati dell'Umbria sicuramente ha pagato anche essa un tributo molto forte in termini di disoccupazione. Dal 2008 ad oggi sono parecchi che hanno perso il lavoro, tanti hanno fatto il rientro in patria e quindi direi che è cambiato tantissimo. Il 97% del totale degli ecuadoriani risiedono in provincia di Perugia. Nel Ternano abitano la maggioranza degli indiani e dei pakistani presenti in regione. In merito all'allarme lanciato dall'OMS sul presunto potenziale cancerogeno delle carni rosse, in particolare quelle di produzione industriale, è intervenuto anche Augusto Scianca, presidente regionale del settore lavorazione carni di Confartigianato. Occorre saper scegliere bene cosa si mangia, ha detto. Le aziende italiane utilizzano metodi di produzione e di conservazione tradizionali e naturali che non hanno niente a che vedere con il massiccio uso di additivi e conservanti artificiali. Secondo Scianca, a certificare l'alta qualità del cibo made in Italy e dunque anche quello Umbro, l'altissimo numero di specialità alimentari riconosciuta a livello europeo con i marchi di qualità IGP, DOP e STG. RAI e AIRC insieme per la presentazione dei giorni della ricerca, iniziativa a sostegno della lotta contro il cancro che attraverso le donazioni del pubblico vuole finanziare i nuovi talenti della scienza del nostro paese. Tre noti volti della RAI nonché ambasciatori AIRC, Antonella Clerici, Carlo Conti e Michele Mirabella, avranno un ruolo fondamentale insieme ai colleghi di radio e tv e ai testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport. Negli oltre vent'anni di collaborazione tra RAI e AIRC sono stati raccolti più di 86 milioni di euro. La campagna si aprirà il lunedì 2 novembre con 1 mattina e si concluderà domenica 8 novembre con lo speciale Lisir in prima serata su questa rete. Ed un altro progetto importante ma di tutt'altro genere è quello chiamato Life Strade, un progetto che coinvolge l'Umbria, Marche e la Toscana e che ha l'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali causati dall'attraversamento di animali selvatici che causa 300 vittime in Europa ogni anno, 30 mila feriti e danni per un miliardo di euro. Vicino alla strada viene posizionato un dispositivo che simula rumori di cani da caccia per dissuadere l'animale dall'avvicinarsi. Contestualmente un lampeggiante avvisi il guidatore di rallentare. In Umbria sono già attivi 5 dispositivi a Penna in Teverina, a Dorvieto, a Castelgiorgio, a Costacciaro e a Fossato di Vico. Ed ora spazio alle vostre segnalazioni. Questa settimana Leonardo Gioia è andato a Paciano perché lì c'è stato segnalato un affresco che ha bisogno di essere restaurato. Vediamo il servizio. L'affresco da restaurare c'è e c'è ovviamente anche la chiesa che lo contiene. E davanti c'è una piazzola che si affaccia su un panorama fatto di alberi e poco più distante il lago Tosimeno. Tutto cospira positivamente verso una riscoperta e valorizzazione che ingloba quasi in un sol colpo d'occhio arte, storia, paesaggio e territorio. Siamo nelle campagne di Paciano e la chiesa è quella del Santissimo Salvatore in località Ceraseto. Stiamo lavorando per la valorizzazione della via del paesaggio del Perugino. Infatti se noi ci affacciamo qui vediamo le linee splendide del paesaggio del lago Trasimeno che poi idealmente vengono raccontate nei fondali delle opere del Perugino. Da Panicale arriva a Paciano e poi dopo da Paciano proseguire verso Città della Pieve. I volontari del FAI, Fondo Ambiente Italiano e gli abitanti del posto sollecitano il restauro del pregiato affresco contenuto nella chiesa parrocchiale, il Salvatore Introne Santi del 1510, opera di Gian Battista Caporali, formatosi alla scuola del Perugino e collaboratore del Pintiolicchio. Va restaurato perché è un'opera bellissima. Nel Settecento questo affresco viene tagliato per apporvi questa decorazione barocca. L'ha rovinato in parte, l'ha rovinato, però l'insieme della struttura barocca è molto elegante. Lacerato da fili elettrici il panorama sul Trasimeno. In questo palo così alto, non vedo questa necessità. E poi posizionarlo in un posto così bello, così attraente anche dal punto di vista turistico. Il valore che può dare un paesano è che si porta dietro questa gioia e questo amore per i posti che ha calpestato e per le persone che ha frequentato. E questo rimane dentro per sempre. I ragazzi dell'orchestra sinfonica del Conservatorio Murlacchi di Perugia, diretti dal maestro Francesco Leonetti, hanno eseguito l'ouverture del barbiere di Siviglia di Rossini, le danze polovesiane del principe Igor di Borodin e la sinfonia numero 8 in fan maggiore di Beethoven. L'orchestra sinfonica è attualmente formata da una settantina di elementi, alcuni dei quali provenienti da diversi paesi esteri, dagli USA alla Cina. Al teatro Lyric di Assisi, il concerto invece di Malika Iane, unica tappa ombra del suo naif tour. Tanta musica, ma oltre a questa la cantautrice milanese ha portato sul palco del Lyric anche la sua sensibilità verso i temi sociali, rilanciando la campagna Adesso Basta, i migranti non sono invasori. Una raccolta di firme per chiedere ai paesi dell'Unione Europea un adeguato piano di sicurezza, di accoglienza. E prima di chiudere, come sempre, un riepilogo delle notizie principali. Si inasprisce l'avvertenza alla Trafome che l'azienda non si presenta all'incontro, sciopero e presidio dei lavoratori che rivendicano il rispetto delle promesse dei mesi scorsi. La Guardia di Finanza sequestra a Terni 72 mila articoli in cinque negozi, tutti senza requisiti di sicurezza, migliaia di gadget preparati per la notte di Halloween. E poi innovazione per uscire dalla crisi, due diverse occasioni a Terni ad Assisi per riflettere sulle start-up e le nuove imprese che ci hanno creduto anche negli anni più bui. E ancora la strategia della Regione per sostenere chi è in difficoltà, il nuovo piano sociale presentato a Villa Umbra mette in comune il centro delle politiche welfare. Infine l'Umbria è al terzo posto per presenza di immigrati, l'11% della popolazione. Sono buona la loro integrazione ma la mancanza di lavoro li sta spingendo verso altre mete. Bene è tutto, ora ci sono le previsioni del tempo. L'informazione regionale torna come sempre a mezzonotte e 10 all'interno di Linea Notte. Grazie per l'attenzione, a più tardi.